Gli Alpini dell'Aquila, ancora una volta il 21 marzo a Murata Gigotti, saranno protagonisti di un'esercitazione, ma un po' particolare. L'obiettivo dell'esercitazione è addestrare il personale del nono reggimento all'utilizzo dei mezzi mobili campali in dotazione al battaglione multifunzionale Vicenza, nell'ottica dell'integrazione tra gli assetti specialistici di forza armata e le componenti di protezione civile. Questa integrazione permetterà di porre in pratica le procedure di intervento previste in caso di pubblica calamità, al fine di ridurre al minimo i tempi di risposta ed assicurare alla popolazione l'intervento di personale preparato e in grado di agire in maniera sinergica. Un altro obiettivo è anche favorire l'interoperabilità tra il personale militare specializzato nel settore vettovaiamento e le analoghe figure appartenenti ad altri enti operanti nel sistema nazionale di protezione civile, come in questo caso l'Associazione Nazionale Alpini, l'ANA e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Parteciperanno quindi il personale del non reggimento, il personale dell'ANA, il personale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e ci sarà anche la scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito. Per prima cosa sarà allestita la mostra statica di mezzi e materiali in dotazione al battaglione Vicenza e agli altri che partecipano. Visiteranno la mostra gli alunni della scuola. Alle 11.45 e questa è la particolarità, ci sarà una prova gastronomica amatoriale tra team di addetti al vettovaiamento appartenenti all'esercito e all'ANA e al Corpo Militare dell'Ordine di Malta. I piatti presentati saranno valutati in un'apposita giuria che sarà presieduta dallo chef William Zonfa e dal comandante del nono Alpini, il colonnello Paolo Sandri. Ci sarà al termine anche un momento di convivialità.